Immagino sia capitato a molti di voi di magari andare a una festa, una cena, un evento e ritrovarsi bloccati a parlare con quei tipi di persone che non smettono mai di parlare di se stesse, quelle persone super narcisistiche, che non hanno assolutamente nessun tipo di interesse nel conoscerti e nel sapere più cose di te. Ecco, questi sono i tipi di relazione che io, come la stragrande maggior parte delle persone, preferisco evitare e a cui preferisco di gran lunga relazioni bidirezionali. Ecco, questo è vero nei rapporti tra persone, ma è anche vero nei rapporti tra brand e persone. Molti brand oggi non sono ancora in grado di capire che il marketing deve essere percepito come una conversazione e non come un monologo. Nonostante infinite possibilità di interazione. Molti brand ancora oggi si limitano a parlare solo per recitare la loro ultima value proposition o per sponsorizzare gli ultimi prodotti lanciati. Ecco, la cosa che non ci dovremmo scordare è che le persone si rendono conto se un brand è totalmente disinteressato a loro e quindi non mi interessa se fai la super campagna cinematografica in cui mi comunichi il tuo nuovo posizionamento. Questa è la nuova campagna di Vodafone in cui quest'anno appunto hanno lanciato questo nuovo posizionamento Together We Can. Se poi, quando ho un problema, l'unico modo che ho per risolverlo è parlare con lui. Toby, il bot probabilmente più odiato d'Italia. Toby, che non capisce mai qual è il nostro problema. Qui in questa chat vedete come gli chiedevo aiuto perché internet non funzionava sul mio telefono e loro mi chiedono ma sei interessato a diventare cliente. Ecco, per quanto Vodafone possa aver investito migliaia di euro in grandi campagne, in strategie di riposizionamento, diventa tutto inutile nel momento in cui gestisci la relazione con il tuo audience in questo modo. Non a caso Vodafone è un brand che oggi sta perdendo quota. Infatti, la fedeltà ad un brand basata su benefit puramente utilitaristici non garantisce un successo nel lungo periodo. Dovete far sì che le persone scelgano il vostro brand per motivi legati a qualcosa che sia unico del vostro brand, non ad una banale e replicabile convenienza di prezzo. E per far sì che questo accada è necessario che il brand venga percepito come una persona. È necessario nutrire la relazione con il tuo audience come nutriresti la relazione con una persona a cui tieni. Ecco, molti di voi adesso potranno dire tutto bello questo discorso di human branding, molto emotional, però porta dei risultati finanziari tangibili. E la cosa più bella è che sì, essere percepito come un human brand ti porta dei risultati finanziari tangibili. Online potete trovare una miriade di studi che cercano di quantificare questo benefit finanziario. Io adesso vi cito quello della Forrester Consulting che dice che appunto se un brand viene percepito come un human ci sono doppie probabilità che quel brand venga acquistato dalle persone. Oppure basta banalmente pensare a questo, non so se avete visto questo post uscito su Willita qualche giorno fa, in cui fanno vedere come i ricavi delle Airpods siano addirittura superiori a quelle di aziende come Uber o Spotify. E come è possibile che un prodotto che ha tante altre alternative sul mercato e che non è neanche stato il primo ad entrare nel mercato abbia dei ricavi di questo tipo. E il motivo è che non si tratta di prodotto, ma si tratta di qualcosa di più. Apple è un brand che contiene all'interno di sé la percezione di un certo stile di vita e quindi indossare le Airpods dice qualcosa di noi, è un movimento. Think different. Le persone ci si identificano ed è un qualcosa che li aiuta a definirsi nel mondo. Ci sono persone che addirittura si sono tatuate il logo di Apple, tanto si si identissero identificati con quel brand. Sono molto felice di dirvi che si sono anche tatuati il payoff di Yoga Academy ed è lì che dobbiamo arrivare se vogliamo costruire un brand forte e far sì che non sia più about the product ma che sia about the brand. Apple probabilmente potrebbe fare automobili che avrebbe lo stesso successo che sta avendo nel tech. Perché? Perché le persone sono legate al brand, non ai prodotti. Bene, ora che penso di avervi passato l'importanza di essere un human brand vorrei passare alla pratica e spiegarvi il lavoro che abbiamo fatto su Yoga Academy per appunto farlo percepire in questo modo dalle persone della nostra community. E la prima area di lavoro su cui focalizzarsi è la creazione del brand DNA. Cosa vuol dire? Vuol dire andare a definire tutti quegli aspetti che caratterizzano il nostro brand, esattamente come andresti a definire una persona. Si tratta di andare a definire quindi quegli aspetti che definiscono l'immagine del brand come può essere l'immagine di una persona, quindi l'immagine visiva. E poi andare anche a definire tutti quegli aspetti più profondi che caratterizzano più che altro la personalità del brand. Tutto questo lavoro in Yoga Academy ha portato alla creazione di un nuovo logo che vedete qui con un nuovo anche payoff e un nuovo lettering che abbiamo utilizzato in tutti i nostri canali di comunicazione. In più abbiamo creato anche una nuova palette colori e questi colori li vedrete ripresi in qualsiasi comunicazione di Yoga Academy, in qualsiasi canale di comunicazione e anche nel modo in cui sviluppiamo i prodotti. Sempre a livello visivo siamo andati a definire un immaginario fotografico di Yoga Academy, quindi qua vedete una color che identifica tutte le grafiche di Yoga Academy e questa creatività in cui movimenti di yoga sono uniti alla natura. Quindi adesso abbiamo definito tutti quegli aspetti che contribuiscono a creare un'immagine visiva del brand Yoga Academy. È anche molto importante andare a definire quegli aspetti che definiscono il brand in maniera più profonda, quindi la sua personalità. E nel caso di Yoga Academy abbiamo definito la personalità del brand come una personalità da esploratore, quindi un brand che ricerca l'autenticità, che promette nuove esperienze e sfida le persone a provarle. Abbiamo definito anche un tono di voce con cui il brand comunica che siano comunicazioni di vendita o che siano comunicazioni di valore. Yoga Academy è equilibrato, evocativo ed energico. Ed abbiamo anche definito una piramide dei valori, quindi valori che guidano ogni singola azione del brand. Ecco, una volta fatto questo lavoro potete già immaginarvi il vostro brand con sembianze umane. Immagino che se voi a casa adesso chiudete gli occhi e provate a immaginarvi Yoga Academy come una persona riusciresse ad immaginarvi qualcosa. Detto ciò, una volta fatto tutto questo lavoro, è importante far sì che questo lavoro non rimanga una presentazione salvata sul vostro desktop, ma che sia portato in vita. Come si fa a portare in vita un brand DNA? Allora, innanzitutto è necessario pensare a quali sono tutti i punti di contatto tra il tuo brand e le persone. Stilate un elenco di questi punti di contatto ed andate a lavorare su ogni singolo punto di contatto per allinearlo a quello che è il brand DNA. E qui coerenza è la parola chiave. Ogni singolo touch point, quindi punto di contatto tra brand e persone, deve essere allineato al DNA del brand. Non importa se sia un touch point con obiettivi di vendita o con obiettivi di creazione di valore, tutto deve essere allineato al DNA del brand. Quando ci siamo trovati a fare questo lavoro in Yoga Academy abbiamo schematizzato il lavoro in touch point digitali e touch point fisici. Il touch point digitale più importante per noi era ovviamente il nostro sito, siamo una scuola di yoga online, quindi il sito è diciamo il nostro biglietto da visita e quindi siamo andati a lavorare sul sito modificandone i colori, modificandone il lettering, andando a esplicitare quello che era il nostro ruolo nel mondo, cosa volevamo fare per le persone, cambiando anche ovviamente tutte le immagini. Abbiamo fatto un lavoro anche molto importante su tutto quello che è il nostro profilo Instagram. Come vedete questi sono degli screenshot del feed di Yoga Academy e potete vedere che le grafiche hanno la color distintiva di Yoga Academy. In più è stato fatto anche un grandissimo lavoro a livello di calendario editoriale. Abbiamo detto che i brand se devono essere percepiti come human devono nutrire la relazione con le persone ed evitare di parlare solo di vendita. Infatti il 95 per cento del nostro piano editoriale si focalizza su temi che non riguardano né i nostri prodotti né la vendita, bensì su temi che sono di interesse per tutto il nostro audience. Abbiamo anche rinnovato l'immagine dei nostri gruppi Facebook e ovviamente della nostra scuola online, cambiandole proprio di vestito, andando a cambiare anche qui sempre i colori, allineando il tone of voice, allineando il lettering, ma anche istituendo delle nuove guideline per la creazione dei video. Su Yoga Academy i video sono uno dei nostri asset principali essendo una scuola di yoga online. Abbiamo detto che il brand ha una personalità da esploratore e questo deve prendere vita anche nei video che inseriamo nella scuola. Proprio per questo motivo tutti i video che inseriamo all'interno della scuola di Yoga Academy vengono prodotti in location bellissime immerse nella natura. Sarebbe molto più facile affittare uno studio e registrarle in uno studio ma questo non sarebbe allineato al brand DNA. È stato fatto anche un grande lavoro su tutte le mail programmate in automazione in quanto abbiamo allineato il tone of voice di tutte le comunicazioni sia di valore che di vendita e abbiamo fatto anche un lavoro sulla programmazione per assicurarci che ci fosse un giusto bilancio tra le comunicazioni di valore e le comunicazioni di vendita. Yoga Academy è cresciuta molto quest'anno e con la crescita ovviamente sono aumentati anche il numero di prodotti da vendere. Abbiamo fatto una grandissima attenzione però allora ad allungare l'orizzonte della programmazione per assicurarci di non avere comunicazioni di vendita troppo vicine tra di loro l'una con l'altra ed essere sempre percepiti con un brand che non vuole solo vendere ma anche nutrire la relazione con le persone che l'ascoltano e quindi tra una mail di vendita e l'altra ne mandiamo almeno altrettante che parlano di temi di interesse per la nostra community. Questo lavoro di allineamento è stato fatto anche in tutte le nostre ads. Potete immaginarvi siamo una scuola di yoga online immaginatevi quante ads abbiamo attive. Bene su ogni singola ads è stato fatto questo lavoro di adattamento e quindi abbiamo adattato anche qui il tone of voice abbiamo allineato l'immagine del brand e abbiamo anche modificato il modo in cui facciamo le call to action. Piuttosto che fare call to action di vendita abbiamo cominciato a coinvolgere e cercare di arrivare alla vendita in un altro modo. Mi spiego, in Yoga Academy lanciamo un nuovo corso al mese. Ecco, potrebbe essere molto facile fare delle ads ogni mese in cui facciamo una call to action molto esplicita, compra l'abbonamento a Yoga Academy perché abbiamo inserito questo nuovo corso. Invece di gestirla così abbiamo deciso di gestirla in un altro modo, ovvero organizzare una live di presentazione corso ad ogni lancio di nuovo corso e poi invitare in forma totalmente gratuita tutte le persone della nostra community a questa live e solo dopo avverrà la conversione senza neanche che questa sia richiesta direttamente da Yoga Academy. Ecco, una volta fatto tutto questo lavoro che vi assicuro è estremamente complesso, stressante, che richiede molte capacità organizzative perché si tratta di andare a coordinare tanti punti di contatto e allinearli ad un'unica immagine. Ecco, una volta fatto questo lavoro io vi consiglio di pensare anche a un modo figo per lanciarlo e in Yoga Academy abbiamo deciso di farlo proprio il giorno del terzo compleanno di Yoga Academy con una diretta che ha coinvolto anche alcuni studenti. Ecco, qua vedete uno screenshot della diretta. Come vedete, super casalinga, per niente patinata, ma autentica ed è per questo che ha funzionato così bene. Infatti questi sono alcuni dei dei commenti che abbiamo ricevuto proprio durante la diretta ed è inutile dirvi che quelli sono stati i giorni in cui abbiamo registrato il più alto livello, il più alto numero di iscrizioni durante l'anno perché abbiamo comunicato un'identità di brand che risuonava alla community e lo abbiamo fatto coinvolgendoli. E qua mi collego a quello che secondo me è la cosa fondamentale da tenere a mente nel momento in cui andate a gestire i vostri touch point digitali, ovvero be conversational. Cosa vuol dire? Voglio dire andare oltre l'atteggiamento autoreferenziale che porta molti brand a concentrarsi solo su di sé e dare invece delle reali attenzioni alle persone. Pensiamo banalmente ai social. Qua vedete screenshot di due brand bellissimi, Kellogg's e Aribo, brand che avrebbero infinite potenzialità di entrare nel cuore delle persone, brand che hanno dei profili Instagram estremamente curati dove è evidente che viene fatto un lavoro da parte del brand manager per assicurarsi che ci sia un piano editoriale ben fatto, delle grafiche patinate eccetera. Ma poi cosa succede? Che uno guarda i commenti, manda un DM al profilo Instagram e nessuno ti risponde. E quindi mi chiedo io a cosa serve fare dei piani editoriali spendendoci anche del budget se poi l'attenzione reale che dai alle persone è questa? Non rispondi neanche. Ci sono bambini che ti chiedono dove posso trovare questi biscotti che mi piacciono tanto e neanche gli rispondi. Ecco, secondo me non serve a niente. È sicuramente più facile invece vincere come brand se siamo realmente in grado di dare attenzione alle persone e trattarle come qualcuno a cui realmente teniamo. Ecco, queste che vedete qua nella slide sono esempi di conversazioni avvenute sul profilo Instagram di Yoga Academy e se leggete le risposte vedete che sono risposte di persone realmente interessate. Qua nessuno ti cerca di vendere niente. Stiamo semplicemente dando attenzioni a persone che hanno un interesse verso il nostro brand. E questa cosa in Yoga Academy viene presa estremamente sul serio. Monica, Anna e Romina dedicano tantissimo tempo a leggere ogni singola domanda che ci viene proposta e a pensare ad una risposta adatta a quella specifica domanda. Questo è costruire un brand forte, non fare pubblicità super cinematografiche. E la cosa bella è che questo è un qualcosa che veramente fa felice le persone che fanno parte della nostra community. Questo è uno dei tanti messaggi che Monica riceve ogni giorno di gratificazione. E le persone così si legano a Monica e legandosi a Monica si legano automaticamente a Yoga Academy. Conclusa questa prima parte quindi sui touch point digitali, vorrei parlarvi di quello che è il touch point fisico più importante su cui andare a lavorare per la creazione di un human brand. E sono gli eventi. E qui la cosa che mi manda giù di testa è che tantissimi brand lasciano agli eventi rimasugli di budget perché sono attività generalmente non scalabili e che non hanno un grandissimo margine. Sappiate però che quello che portano al brand è qualcosa di incredibile. Ecco qui vedete il video del Summer Tour di Yoga Academy. E secondo me è un bellissimo esempio di un brand che prende vita. I colori, il setting della location, tutti allineati al brand DNA. Le persone hanno esplorato nuovi movimenti a contatto con la natura. e soprattutto sono state insieme condividendo sensazioni speciali che non si scorderanno mai. E allora queste persone non lasceranno mai Yoga Academy. Non tanto per il prodotto che vendiamo ma perché lasciare Yoga Academy vorrebbe dire lasciare questo mondo pieno di emozioni. E ogni volta che lo vedo mi batte il cuore a mille. Quindi dopo questa bomba di emozioni, se vogliamo guardare la cosa da un punto di vista un po' più strategico competitivo, possiamo anche dire che le esperienze offline possono essere un enorme vantaggio competitivo non replicabile. Perché se può essere facile ripercorrere la traiettoria, la strada di sviluppo di un business dell'online, è estremamente difficile replicare la strada dell'offline. Perché appunto, come abbiamo detto, è molto macchinosa, difficile da organizzare e porta poco margine. Ma è assolutamente necessario per la creazione di un human brand. Quindi per concludere, quanto detto in questi 20 minuti, vorrei fare un piccolo riassunto di quello che è necessario fare se volete che il vostro brand faccia questa transizione da product brand a human brand. Innanzitutto è fondamentale partire dalle fondamenta, quindi andate a creare un DNA di brand distintivo e andate ad applicarlo su tutti i vari customer touch point. Be conversational nella gestione dei vostri touch point digitali. Ecco, create esperienze che portino in vita il vostro brand. E se non volete sbagliarvi mai, seguite la golden rule di relazionarvi al vostro audience come vi relazionereste ad una persona a cui tenete. Vorrei concludere questo intervento rinnovando il mio invito a tutti i brand che ci stanno ascoltando. Be human. E mi auguro che, quanto detto durante questi minuti, possa aiutarvi ad avere, a compiere delle azioni concrete volte all'umanizzazione del vostro brand e ottenere in questo modo quello che verosimilmente sarà la principale fonte di vantaggio competitivo da qui agli anni a venire. Grazie mille. Grazie mille.